Noi quattro facevamo a gara a chi combinava lo scherzo più coraggioso e più divertente. Durante i primi giorni dell'anno scolastico io trovai in corridoio il click-clack delle monache e combinai un casino da fine del mondo. Il click-clack veniva usato in chiesa per segnalare alle ragazze quando dovevano alzarsi in piedi, sedersi, inginocchiarsi e genuflettersi, tutto basato sul numero dei click. In tasca a me provocò l'apocalisse. Sarà un gran giorno. Voi sarete i difensori della fede, sarete i soldati di Cristo e riceverete i doni dello Spirito Santo. Beh, sarà un gran giorno e i vostri genitori saranno molto fieri di voi. Quando siete stati battezzati, i padrini fecero delle promesse. Dammi il click-clack. E ora voi sarete... Ma il click-clack? Porso. Le monache sono appresagli troppo facili.